Hola a tutti ragazzi qui da Abbox, oggi siamo su vlog, non siamo in macchina, siamo a casa perchè sto facendo delle cose quindi sono a casa, detto in italiano oggi un video particolare, molto molto importante per me, per voi e per il canale perchè oggi vi volevo ringraziare, di cuore, in vero senso della parola i veterani sapranno che prima avevo un canale identico a questo qua, da Abbox senza l'HD che ha 1000 iscritti e tramite degli strike è andato a farsi fotte ora con questo nuovo canale dopo ormai quasi due anni di attività e centinaia di video messi online siamo riusciti a raggiungere oggi i 1700 iscritti io vi ringrazio tantissimo, partirà ad un applauso, non è vero mai perchè non so editare, partirà un cazzo, hai detto in italiano, vi volevo ringraziare tantissimo quindi oggi sono qua per ringraziarmi ma in un modo particolare nel senso che oggi ci sarà un contest, a me piace tanto fare i contest perchè mi piace regalare le cose alle persone, visto che posso e mi piace una cosa che mi piace fare quindi, come si svolgerà il contest? il contest durerà da oggi, che è il 20 giugno fino al 20 di luglio, un mesetto, ok? un mesetto in cui dovete condividere, spammare, fare un casino come funzionerà? dovete semplicemente scrivere sotto, partecipo, ok? che cosa si vince prima cosa in questo contest? in questo contest si vince, voi andate nel sito, che non lascio la descrizione se non ho usato il mio ringtone, va bene in Instant Gaming, che è un sito online che vende chiavi, K, per PC, PlayStation 4, Xbox per PS4 e Xbox vende solo gli abbonamenti annuali, quindi Xbox Live e PS Plus per il resto tutti i giochi in uscita e tutti i giochi già usciti chi vince, chi vincerà questo contest avrà diritto a un gioco a scelta sua non importa il prezzo, andate su Instant Gaming, scegliete una cosa e la dovete e ve la regalo io, vi manderò la mail, poi ci sentiamo su Facebook, su due volete, via mail dovete semplicemente scrivere partecipo e il nome, anzi la piattaforma che vorreste il gioco che ne so, partecipo, PC e basta, io so almeno che voi volete il PC, quindi chi vince io so già dove andare a battere oppure partecipo sotto PS Plus, oppure partecipo sotto Xbox Live quindi avrete tutti i giochi di Steam, di Origin, di Uplay, Battle.net, Xbox, Indie, tutto quello che volete tutto quello che volete ci sarà dovete solo scegliere il gioco, il vincitore dovrà scegliere il gioco o l'abbonamento a PS Plus o l'Xbox Live annuale ovviamente gli abbonamenti li facciamo annuali noi qua, non siamo mozzoni e io ve lo mando via mail, ve lo mando su Facebook, lo pago voi mi dite, guarda io voglio questo, vi mandate magari un link su Facebook parlando del vincitore e in automatico io vi invierò la mail su Facebook, via mail, quello che volete per partecipare a cosa bisogna fare bisogna prima cosa mettere mi piace a questo video qua bisogna commentare appunto con partecipo PC o Xbox Live o PS4 Plus e poi condividere il video e mettere mi piace alla pagina di Facebook che trovate in descrizione che è la mia, quella ufficiale del canale fatto questo ci sarà poi l'estazione casuale tramite un programmino che troveremo che adesso non so ancora quale va mai con un mese quindi me la prenderò con calma si estrae il vincitore, si fa il regalo e basta questo è il modo mio di ringraziarvi, io vi ringrazio ancora mi raccomando guardate tutto il video, seguitelo nei minimi dettagli e ci vediamo, penso che scriverò anche in descrizione cosa fare e ci vediamo al prossimo video ho l'ho tutti a tapox